Emmaus Mentre il sole ti avvolge al declino, sei ancora il viandante che spiega le scritture e ci dona il ristoro con il pane spezzato in silenzio. Coriamente illumina ancora perché vedono sempre il tuo volto e comprendano come il tuo amore ci raggiunge e ci spinge più a largo.